Il nostro viaggio in Molise torna a fermarsi a Campo di Pietra, anche se parliamo di un progetto di respiro sicuramente nazionale, oserei dire internazionale, ossia un spettacolo di comedia musicale che parte proprio da qui, per gli allestimenti, per quanto riguarda le prove che sono in corso da ormai due settimane nel contenitore fisico della Casa della Cultura di questo comune, per spostarsi poi al Teatro Savoia, dove ci saranno prove nei prossimi due giorni e la prima nazionale di questo Caffè Vensan, i colori di un'epoca, dal 5 all'8 di dicembre. Noi stiamo seguendo questo progetto così come abbiamo fatto con altri progetti del gruppo di lavoro che dal Molise ha portato importanti realizzazioni poi in tutta Italia e vogliamo saperne di più anche su questo Caffè Vensan, per cui abbiamo cercato di rubare, poco per la verità è possibile per quanto riguarda le scene, ma molto per quanto riguarda invece la disponibilità dei protagonisti a spiegarci come i colori di un'epoca sono ancora attuali e soprattutto sono molto emozionanti. Partendo dall'esperienza, partendo dalla vita, da quelle note che hanno messo insieme un vissuto forse a tratti di disperazione e poi invece momenti di gloria successiva incredibili, quindi appunto per il percorso di Vincent Van Gogh, ma noi appunto con questo progetto come se ci trasferissimo in un café chantane francese con i suoi musicisti, con le sue subrette, con i suoi personaggi particolari e con tante cose da scoprire insieme. Restate con noi perché abbiamo tante cose da chiedere proprio ai protagonisti di questo Caffè Vensan. Siamo sempre ospiti del backstage di questo set di allestimento di Caffè Vensan, i colori di un'epoca, nella Casa della Cultura di Campo di Pietra, quindi a pochi chilometri da Campobasso, dove nasce e dove cresce poi fino a un certo punto Giulio Maroncelli che, lo ricordiamo, è il Luke in questo Caffè Vensan. In effetti è un po' il Luke degli anni 2000 tutti i giorni a Roma, giusto? Sì, diciamo che io faccio l'attore, sono un attore, sono nato a Campobasso, vivo a Roma da dieci anni. Ovviamente il lavoro artistico è sempre altalenante, quindi poi negli anni lavoro come cameriere in un locale. Però diciamo che Luke parte anche da qualcos'altro, perché con Andrea Ortis abbiamo condiviso uno spettacolo insieme che è stata la locandiera di Goldoni con la reggia di Stefano Sabelli. Anche lì facevo un personaggio piccolo, un servo di scena che per Andrea, poi per molte persone è stato molto divertente. E lì è nata un po' una stima reciproca nel lavoro e quest'anno lui ha pensato di chiamarmi coinvolgendomi in questo progetto e affidandomi un ruolo che è un po' una comfort zone per me, perché a volte mi ritrovo a fare il cameriere in un locale poi che fa musica dal vivo a Roma. Però diciamo che durante questi giorni di allestimento non è poi tanto semplice, perché abbiamo lavorato tanto. È un progetto che ha un'ambizione molto alta, sono stati giorni intensi, è uno spettacolo ricco di apparato scenico, di musica dal vivo, scenografie, proiezioni 3D, canto, ballo, insomma. E poi è uno spettacolo a cui Andrea tiene molto, è qualcosa anche molto personale. Quindi quando mi ha chiamato e mi ha proposto questa cosa ha detto io mi aspetto molto da te e io mi sono buttato a capofitto, sono arrivato qui, sono molto felice di operare nella mia terra, soprattutto in un contesto del genere, cioè in un allestimento che ha un respiro secondo me molto internazionale e nazionale, è un allestimento importante e quindi questo, siamo stanchi però molto felici, molto felici. Infatti la domanda che così spontaneamente ti volevo fare era proprio questa, cioè respirare tanta arte, che penso sia la cosa poi che ti anima maggiormente, nella tua città poi, con una produzione appunto orientata verso qualcosa di grande, penso insomma che sia un quadro d'insieme che sia entusiasmante poi per un attore molisiano e il campo bassano in particolare. Tantissimo, se io potessi fare il mio lavoro qui a questi livelli tornerei immediatamente. Come Van Gogh va via dall'Olanda, arriva in Francia, poi lì vabbè succede molto, ma molto di più, si allontana, poi va verso la Provenza. Diciamo, gli artisti sono sempre nella condizione di essere un po' girovaghi, di cercare sempre stimoli nuovi. Diciamo, io sono andato via perché c'era un po' di grigio quando mi sono diplomato, diciamo, non c'erano tante aspettative lavorative, quindi mi sono proiettato verso Roma e lì poi, diciamo, qualcosa ho costruito, però se potessi tornare qui veramente lo farei con gioia e questi giorni sono stati preziosissimi per me, quindi ringrazio chiunque abbia lavorato in preproduzione e stia lavorando per la costruzione di questo lavoro, davvero. Abbiamo conosciuto i protagonisti di questo caffè mensane, i colori di un'epoca, già in fase di conferenza stampa, e lì è venuta fuori questa, come dire, questa favola, questa figura della cosiddetta aperegina di questo caffè chantane, che però anche in questo caso ha mille colori, c'è non soltanto quello, diciamo, affermativo, perentorio di un personaggio che vuole comunque affermare la propria supremazia, ma invece poi, insomma, come sta andando man mano che si va avanti con le prove d'allestimento questa amalgama con gli altri protagonisti? Sta andando bene, diciamo che, appunto, come detto, ci sono vari colori in questo personaggio. Questa donna è una donna che sa il fatto suo, soprattutto con gli uomini, sa come gestirli, gestisce un po' tutto, le ballerine, ma è anche molto simpatica, è una grande ironia, si prende molto, un po' anche in giro da sola. Quindi, diciamo che poi con le prove si sviluppano altri colori, ha anche dei toni molto drammatici, poi, questo personaggio, perché comunque è, diciamo, un po' travestita, una sorta di piccola maschera, perché forse nello spettacolo è il personaggio che ha un'evoluzione maggiore di tutti quanti, che ha proprio un grandissimo cambio all'interno di tutto questo percorso, dall'inizio delle prove fino a questo debutto. Quanto Van Gogh si percepisce, diciamo, all'interno di questo progetto? Ecco, non è semplicemente un parallelo di simbologia tra i colori e le emozioni, ma, diciamo, quanta emozione, quanto comunque di ogni personaggio si interiorizza e si riporta poi a questo genio all'epoca incompreso? Genio incompreso, che poi, insomma, genio lo è sempre, anche se è stato scoperto poi dopo, purtroppo, la sua vita. Sì, ogni personaggio ha un po' un parallelismo con Vincent Van Gogh. Il mio personaggio ha alcune caratteristiche che poi anche, diciamo, della famiglia, non familiari di Van Gogh. E ognuno di noi può essere, forse sì, un colore di questo grandissimo artista. E quindi all'interno di questo spettacolo noi diventiamo un po' la tavolozza e diventiamo anche noi un quadro, no? Perché ognuno di noi diventa qualcosa. Ultima domanda su questa formula, su questa caratteristica della commedia musicale, che si differenzia comunque dal musical, diciamo, forse è un concetto anche un po' più intimo, più personale, che arriva in maniera più diretta al pubblico. E come ci si rapporta comunque con l'essere poi artisti a 360 gradi, nonostante tutto? Non siamo nell'ambito di un musical, ma siamo comunque in una tipologia di spettacolo che richiede di essere praticamente dalla A alla Z. Beh, io faccio questo da tanti anni, quindi diciamo, io penso questo, che un attore è un attore. Poi nello spettacolo musicale, come in questo caso, adatta tutto quello che serve, no? Al suo personaggio, perché poi le canzoni raccontano. In questo caso c'è una particolarità diversa, perché le canzoni, soprattutto quelle che mi riguardano, sono canzoni di una cantante, perché io all'interno di questo Caffè Chantan sono una cantante, quindi non raccontano nello specifico. Ma comunque possono anche dire molto, anche se sono in francese, si capisce benissimo quello che il personaggio fa e vuole dire. Le tre arti raccontano sempre tutto di un personaggio, quindi devono essere assolutamente al servizio della storia, sicuramente più faticoso, ma per quanto mi riguarda è quello che amo di più. iscriviti al nostro canale Grazie a tutti.